Mi piacerebbe viverlo di più, già lo viviamo tantissimo dalla mattina al pomeriggio con i bambini, ma mi piacerebbe creare proprio una zona, non so se questo è possibile, comunque ci spero, una zona dove il bambino può giocare, mangiare, anche dormire e creare un angolo proprio dove la struttura del nido interna possa essere proprio dimenticata, viverlo appieno all'esterno.